Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Capricorno, tendenze energetiche per l'estate 2024. L'imperatrice e l'eremita. Che interessante. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico, ma qui ci potrebbe essere come un diventare madri di se stessi, perché con l'eremita mi indica un viaggio interno e l'imperatrice fa riferimento alla madre, alla maternità, al creare qualche cosa. Potrebbe anche essere un buon momento per gli artisti, per isolarsi e trovare nuova fonte di ispirazione. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono collettive, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente o la luna, il segno lunare. Se poi non sapete come unire questi oroscopi, ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, il link alle previsioni per il primo semestre del 2024 e il link per i corsi gratuiti presenti sul canale. Andiamo a vedere un po' qual è l'energia. Adesso vado a vedere carta per carta e poi in un secondo momento guardiamo i settori specifici. Quindi l'amore e il lavoro, coppie. Il sole, la giustizia è un bellissimo asso di coppe. Regina di spade. Re di spade. Sacerdotessa e tre di pentacoli. Allora ragazzi, per qualcuno devo dire che potrebbe proprio essere il discorso del cambiare da fanciullo a adulto o da figlio a genitore o da fanciullo a genitore di se stessi. Potete vederlo come più vi piace. Guardate, siccome abbiamo sia il sole che l'assù di coppe che l'imperatrice, vi dico che se state cercando dei figli l'estate è un buon periodo. Allora andiamo carta per carta. Vediamo il sole, abbiamo un fante di pentacoli. fante di pentacoli, quattro di bastoni e re di coppe. Allora vi dico che si potrebbe trattare di figli. E ho come la sensazione... Allora, se siete figli è un po' come trasformarsi in dei genitori. Se volete dei figli è un po' come chiedersi, sono pronto per essere genitore? C'è un qualche tema l'intorno. Un'altra domanda che potreste farvi in questo periodo è se parte questo progetto avrò ancora la mia stabilità? C'è un po' come questo momento di introspezione. Andiamo a vedere la giustizia. fante di bastoni. E nove di spade. Ragazzi, è come se ci fosse qualcosa che vi preoccupa. Vi dico, la giustizia è una carta che parla di riequilibrio, è una carta che parla anche di contratti per qualcuno. C'è come una sorta di preoccupazione riguardo a un tema. Allora, se per voi fosse il discorso del diventare genitori, qui è come se ci fosse un qualche tipo di bisogno di regolarizzare tra i futuri genitori la situazione. Perché abbiamo un quadro di bastoni, ci vuole qualcosa di stabile. Andiamo a vedere l'asto di coppe. Però sento che molti si chiedono se voglio diventare veramente genitore o sono un buon genitore. Un'altra carta che mi parla di figli. Abbiamo il matto, sette di bastoni per l'asso di coppe. Guardate, io vedo un nuovo inizio, vedo bambini da tutte le parti. Sapete che se nei tarocchi la parola bambini può essere sostituita con la parola progetto. Quindi se per caso non siete più in età da figlio, insomma non è quello il vostro caso, sostituite la parola figli con progetto. Però qua è proprio una nuova nascita, mettiamola così. Sento proprio come se ci fosse una spinta in avanti eh. Però quello che mi colpisce è che qui abbiamo due figure di spade. Andiamo a vederle tutte e due. La regina di spade. La regina di spade. Re di bastoni. Due di bastoni. Cinque di spade e fante di coppe. Questa regina di spade invita un po' a... Come vi posso dire? Delimitare le zone di azione. Cioè, sono una buona madre? Fate un'analisi settoriale. Mi occupo come si deve di me stessa. Parlo femminile perché io sono donna ma vale anche per gli uomini, ok? E qui analizzate tutti i settori. Io ho come l'idea che ci siano delle questioni a livello mentale o il come avete gestito certe cose fino ad adesso a livello mentale che hanno bisogno di essere un po' ripulite. Andiamo a vedere il re di spade perché si tratta proprio di finire di mettere ordine. Qua è un po' come se fosse identifico che cosa bisogna mettere in ordine, qua finisco di metterlo in ordine. E potrebbe anche essere semplicemente mettere in ordine i documenti prima di avere un figlio, ipotesi. Mettere in ordine i documenti prima di iniziare questo nuovo progetto, prima di andare in vacanza, prima di andare in ferie. i documenti li sento tanto perché sono due figure di spade, eh. sole e nove di coppe. Guardate, io qui sento tanto comunque un discorso legato a dei figli, ve lo dico. Sento anche che per qualcuno potrebbe essere un momento di lotta tra chi ha la custodia. questa regina di spade effettivamente potrebbe rappresentare un avvocato o qualcuno che in realtà non vi darà soluzioni ma vi darà uno spiraglio di speranza. le soluzioni secondo me le vedrete poi a fine periodo con questa sacerdotessa che adesso andiamo a vedere. Eremita. Comunque devo dire che c'è, cioè fate bene a prendervi un momento Eremita perché c'è tanta confusione su come procedere, su come gestire, su come organizzare, sui fogli da fare. C'è un qualche tema quest'estate che vi terrà impegnati. Allora abbiamo l'eremita nuovamente che si ripete per la sacerdotessa, un 3 di pentacoli, il mondo e un 3 di spade. 3 di pentacoli ce l'avete anche qui, eh. Quindi è uscito un'altra volta. Guardate, ho come l'idea che andrete oltre i dubbi con questa sacerdotessa. perché, ripeto, avete anche un'eremita, quindi un po' come il, faccio un po' il punto della situazione e la sacerdotessa è quella carta che vi dice, non state, avete un 5 di spade? Sì, non state tante a vedere chi ha ragione, chi non ha ragione, chi ha sbagliato o che cosa è giusto, il punto è che una determinata cosa è così e da lì bisogna ripartire, bisogna cercare la propria luce. Il 3 di pentacoli è anche una carta che parla di collaborazione. Poi abbiamo un 3 di spade che mi dice che, insomma, potrebbe esserci un po' di difficoltà, di sacrificio da dover fare, ma poi con la carta del mondo si arriva al compimento, alla conclusione, al raggiungimento di un obiettivo, insomma. Sì, qui ho come l'idea che ci siano delle questioni burocratiche da risolvere. Mi parlano di adottare e ho anche l'idea che se vi eravate messi la coscienza post, cioè nel senso in pace la coscienza del tipo no, tanto non ce la faccio, è un percorso troppo lungo. Io invece ho la sensazione che si sblocchi qualche cosa, io ho come l'idea che se l'avvocato sia donna, non so, ho come la sensazione... Questo re di spade potrebbe rappresentare, nel caso di affidamento di custodie, potrebbe rappresentare sia un giudice, sia il papà. Però se avete un avvocato donna, io ho come la sensazione che sia, come vi posso dire, ho la sensazione che sottovaluti la cosa, che non abbia quella lungimiranza, quella tatto, quella amorevolezza necessaria per ammorbidire questo re di spade, capite cosa intendo? Allora, andiamo a vedere caso per caso, se siete single, ragazzi, se siete single, ho come la sensazione che ci saranno insomma parecchi pretendenti, parecchi... potrei anche quasi dire proprio flirt, un paio soprattutto, saranno molto 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 interessanti, e vi dico che per qualcuno potrebbe proprio sbocciare l'amore. Potrebbe anche essere durante un viaggio, vi dico, durante un viaggio. Sento che è come se in questa estate perderete di vista qualcuno, potrebbe essere, ripeto, un figlio, cioè tipo, non lo tengo più tanto sotto controllo, o non ho più tanto idea di che cosa fa, o adesso che lavora non mi chiama più tanto come prima, cose per lo stile. Però comunque i single ne vedranno delle belle. Ho sempre l'idea, in questo caso, che abbiate bisogno di regole, di certezze. Con la carta della giustizia, qui è come se, ok, voglio una cosa equilibrata, ah, tenete presente che se per caso avete superato un periodo molto difficile, una rottura faticosa, o cose di questo genere, la carta della giustizia rappresenta anche le leggi di compensazione, quindi tanto mi è stato tolto, tanto mi viene dato. E in effetti vedo che qui di divertimento ce n'è parecchio. Ci potrebbe essere una persona in particolare che vi ispira, ma le carte vi dicono prendetevela con calma, con questa persona. Se siete in una relazione, ufficiale o non, non importa. Devo dire che avete bisogno, anche voi, di mettere un po' delle regole. Sì, infatti, c'è come in due pentacoli, c'è come un ciclo karmico che continua a ripetersi e voi avete bisogno di mettere dei pali, dei punto, tirare delle linee e dire, ok, fino qui, adesso in amanti si cambia dinamica. Vedo comunque che ci sono anche per voi dei nuovi inizi, ok? Potrebbe anche essere positivo per cambiare, diciamo, queste dinamiche, per cambiare aria, se vogliamo, se siete in una relazione, organizzare un nuovo Hopi, una gita al lago, continuo a vedere il lago, quindi una gita al lago, un qualche cosa che possa rilassare, una gita in montagna, una camminata, non lo so, in mezzo ai boschi, piuttosto che una spa, ho come la sensazione che abbiate bisogno di rilassare l'energia tra di voi. e questo vi permetterà di parlare in modo più chiaro e di dire, ok, questo abbiamo da una parte la giustizia, questo abbiamo dall'altra parte, e come mettiamo insieme le cose? la carta della giustizia è una carta che parla di accordi, come ci accordiamo, come ci veniamo incontro. Per quello che riguarda il lavoro, ragazzi, allora devo dire che non vi sento in una malaccio a livello di lavoro, se siete per caso senza lavoro, vi dico che potrebbero arrivare delle proposte interessanti, ma in realtà non sono proposte che si potrebbero concretizzare a breve, ma sicuramente sono le proposte giuste per farvi iniziare a pensare al futuro in modo diverso. Se siete dipendenti, ho come la sensazione, ragazzi, che vi posticiperanno le ferie, scusate se ve lo dico, fatemelo sapere poi nei commenti, ma ho come l'idea che succederà qualche tipo di imprevisto, che vi farete pinzare in mezzo alla fine alle ferie e vi diranno, vabbè, non te le prendi adesso, ti do una settimana in più a X ottobre, quando voi magari non serve, perché la persona con cui dovevate andare in ferie non ha le vacanze a ottobre. Non lo so, sento una cosa così, fatemelo sapere poi. Se siete autonomi, ragazzi, cercate di non gestire, cioè, di non mettere troppa carne al fuoco, perché sì, è vero che siete proiettati verso il futuro, avete questo nuovo progetto, probabilmente in mente, volete ampliare l'azienda, state comunque firmando contratti importanti e via dicendo, però potreste fare un po' di confusione, la regina di spade è qui per dirvi di mettere tutto nero su bianco, di fare, avete tre carte che dicono di regolarizzare il più possibile le cose, per quello che riguarda la vostra economia, e qui mi riferisco un po' a tutti, ragazzi, state sereni, perché qui devo dire che la vostra economia prospererà, o come è la sensazione? Allora, primo che potreste essere aiutati, se avete già qualche progetto in ballo, sento che è già stabile, cioè se già avete costruito qualcosa prima, tipo qualche rendita passiva o cose di questo genere, vi frutteranno, e non vi dovrete preoccupare, da un punto di vista economico siete benedetti in questa estate, e devo dire che con questo mondo qui si parla proprio di un cambio, di un momento dove arriverete a un risultato, ragazzi, arriverete a creare qualcosa di importante con la carta dell'imperatrice. Va bene, andiamo a vedere un oracolo, scambiarsi i doni, carta numero 27 e carta numero 31, perché? Allora, questa carta è una carta di, diciamo, scambio energetico, dare per avere, avere per dare, no, è prima dare e poi avere, prima si dà e poi si ha, prima si emana questa vibrazione di apertura del cuore, di generosità, in modo da sintonizzarsi su quell'energia, e una volta che noi siamo su quel gradino, su quella vibrazione, iniziamo ad incontrare persone su quella vibrazione, e quindi che danno. è una carta molto bella, è come se preannunciasse un periodo ricco, che non è detto che sia ricco a livello economico, ricco anche a livello di, magari, emozioni, amici, relazioni, esperienze, che sono quelle che fanno crescere l'anima, e poi abbiamo la carta numero 31, che io trovo molto interessante, perché vi dice, di chiedervi il perché, di qualsiasi cosa, cioè nel senso, perché sto facendo questa azione, che cosa mi spinge, a fare questa azione, che cosa mi crea questo movimento energetico, perché mi comporto così, perché faccio così, perché scelgo così, è una carta di, scusate, è una parola, il perché, è una domanda, di autoanalisi molto, molto profonda, eh? Va bene, cari amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo comunque sapere nei commenti, con un like, se avete piacere, potete condividere il video, o iscrivervi al canale, se volete iniziare un percorso di crescita con me, potete scrivermi una mail, per prenotare una sessione individuale, oppure potete abbonarvi al canale, io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio, e ci vediamo nei prossimi video, ciao ciao!